Crisi al comune di Campli. È rottura tra il sindaco Pietro Quaresimale e il suo vice Federico Agostinelli, assessore al bilancio e al personale, o meglio ex-assessore. Quaresimale infatti con una nota ha comunicato la revoca delle deleghe ad Agostinelli, che è anche consigliere provinciale ed è stato in prima linea nelle recenti elezioni amministrative di Teramo come promotore della lista civica Oltre, che siede sui banchi dell'opposizione. Il primo cittadino temporaneamente mantiene le deleghe in attesa di risolvere la questione politica all'interno della maggioranza. Negli ultimi tempi ci sono state posizioni diverse che potevano e dovevano essere affrontate e risolte all'interno dell'amministrazione, commenta Quaresimale. Sono dispiaciuto e provo disappunto per il fatto che Federico Agostinelli abbia preferito esternare la sua posizione pubblicamente piuttosto che ragionare su cosa era meglio fare per il bene di Campli. Alla base dei dissidi ci sarebbero una serie di valutazioni negative da parte di Agostinelli sul protagonismo del sindaco e sulle sue ambizioni politiche. Il tutto da quando Quaresimale ha aderito alla Lega circa un anno fa, diventando di fatto il primo sindaco salviniano d'Abruzzo. A livello locale invece lo strappo si è consumato sulla gestione del personale del comune farnese. La delega al personale apparteneva a lui, dichiara Quaresimale, ma opportunamente le situazioni più critiche dovevano, come sempre avviene, essere discusse insieme. Agostinelli era intenzionato a portare avanti procedure concorsuali su cui c'erano forti dubbi, aggiunge il sindaco, e su cui siamo ancora in attesa di pareri legali in merito. Ho personalmente bloccato delle assunzioni perché è necessario, in via preventiva, assumere dei pareri in merito. Quaresimale rimarca anche comportamenti vessatori di Agostinelli nei confronti di alcuni dipendenti, rallentando nel lavoro e pregiudicando l'intera macchina amministrativa. Non ha rispettato i tempi per il piano regolatore, quale delegato all'urbanistica, rincara il sindaco, e si è anche intromesso in deleghe che non erano di sua appartenenza. Clima rovente, dunque, nella cittadina farnese, per una vicenda che promette strascichi.